E' andato al pilota Enrico Più a bordo di una Formula Gloria alla non edizione dello Salon Città di Nuoro che si è disputato ieri sui tornanti al Monte Orto Bene, valido per la Coppa Italia di categoria. Il campione Tirese che corre per il Top Driver Team ha dominato la competizione aggiudicandosi tutte e tre le manci in programma, ottenendo nella terza prova un punteggio di 172,46 punti. Al secondo posto si è piazzato Luca Tilloca, sempre con una Formula Gloria che invece di punti ne ha totalizzati 174,53. Al terzo posto Pier Raffaele e Marcello su Formula Gloria con 175,64 punti. La gara entusiasmante è quella che si è svolta sull'Orto Bene, cui hanno assistito tanti appassionati. Una corsa promossa e organizzata dal Mediterraneo Team presieduto da Moro Nivola con la collaborazione dell'Ogliastra Racing e il patrocino del Comune di Nuoro. Uno slalom articolato in tre manci su un percorso di 3.990 metri che ha visto sulla linea di partenza, fissata a un chilometro dalla Chiesa della Solitudine e una santina di piloti che sono andati in battaglia affrontando un percorso molto tecnico ma difficile comunque immersi in uno splendido scenario dal punto di vista naturalistico. Tutto si è svolto secondo programma con i piloti che hanno dovuto adosare potenza e agilità per affrontare senza penalità anche le 12 chicane che il tracciato contemplava. Alla fine l'ha spuntata Enrico Più che si è dimostrato a proprio agio sul percorso dell'Orto Bene battendo sul traguardo Luca Tilloca che invece aveva vinto in occasione dell'ottava edizione dello slalom. Grande attenzione è stata rivolta agli organizzatori e alla sicurezza dei piloti e spettatori con un imponente servizio di assistenza e supporto che ha visto la partecipazione di 118 vici del fuoco e protezione civile.